Tre giovani dissidenti di Hong Kong, tra cui Joshua Wong, sono stati incarcerati dopo essersi dichiarati colpevoli di aver incitato a una manifestazione durante le proteste a favore della democrazia lo scorso anno, proprio mentre la repressione su chi manifesta contro Pechino avanza. In queste immagini i dissidenti Joshua Wong e Ivan Lam entrano in una struttura di detenzione dopo essere stati scortati da un tribunale dove si sono dichiarati colpevoli insieme con la collega attivista Agnes Cho. L'anno scorso Hong Kong è stata sconvolta da sette mesi consecutivi di enormi e spesso violente manifestazioni democratiche in cui milioni di persone sono scese in piazza.